Incidente nella mattinata di mercoledì 16 marzo, poco prima delle 11, all'incrocio tra viale Don Notario e la provincia alle 52 degli E, coinvolti una seta Altea e una moto Harley Davidson. Il centauro, per evitare la collisione con la vettura, è caduto a terra. Sul posto sono intervenuti l'ambulanza della Croce Rossa di San Giorgio Canavese e i carabinieri di Elie. Il motociclista ha subito soccorso e è stato trasportato all'ospedale di Ivrea, non pare in pericolo di vita. La dinamica del sinistro è al vaglio dei carabinieri. Grazie a tutti. Grazie a tutti.